Benvenuti ragazzi, benvenuti qua, io sono sempre qua, sempre sul Passo del Tubo Ragazzi, oggi vi faccio vedere come sentire la telecronaca del tifoso Mentre stiamo vedendo una partita su Sky Sport E quindi ragazzi, andiamo dentro con il video Benvenuti qua ragazzi, su come sentire la telecronaca del tifoso della propria squadra del cuore Mentre stiamo vedendo una partita su Sky Sport Adesso ragazzi, stiamo vedendo Inter-Milan, vinta 1-0 per l'Inter Stiamo sentendo la telecronaca normale di compagnoni marchegiani Come sentire, non so, la telecronaca del tifoso dell'Inter, quindi Scarpini Come fare? Ragazzi, cosa fare? Premere questo tasto qua Come potete vedere, ci arriva questa schermata Cliccare su audio E qua poi andremo a mettere originale Ok E sentiamo Scarpini Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Che vi sia stato di vostro gradimento Lasciate un like, iscrivetevi Commentate se non avete capito qualcosa Ragazzi, vi risponderò subito E qui, dal posto del tube è tutto Grazie ragazzi